Un minuto con Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nella clausura, sappiamo che spesso Padre Pio non stava bene ed era costretto a stare a letto, ci racconta l'episodio Padre Paolino da Casa Calenda, in quelle giornate in cui Padre Pio non riusciva neanche ad alzarsi dal letto, chiedeva una mano ai confratelli e in modo particolare la sera prima di andare a letto Padre Paolino rivolgendosi a Padre Pio gli dice Padre mandatemi l'angelo custode in modo tale che io posso svegliarmi e posso venire da lei per darle una mano se lei ha bisogno e così fu, verso mezzanotte accade che Padre Pio manda l'angelo custode a Padre Paolino, sente bussare alla porta ma era talmente forte il sonno di Padre Paolino che non si sveglia, mortificato torna l'indomani da Padre Pio e dice ma Padre non mi ha svegliato, come non ti ho svegliato, ti ho mandato il mio angelo custode ma tu non ti sei svegliato, mortificato ancora di più gli dice Padre Paolino allora questa sera di nuovo che sia mandatemi l'angelo custode, così fu Padre Paolino venne svegliato ma lui aveva questo sonno talmente forte che si girò dall'altro lato del letto e continuò a dormire. Nella terza notte Padre Paolino rivolgendosi di nuovo a Padre Pio gli disse padre fate in modo che il vostro angelo custode mi svegli ma anche in modo brusco ma l'importante è che io mi svegli e possa aiutare se ha bisogno di me e così fu. Quella notte Padre Paolino andò a dormire ma durante la notte venne svegliato da un rumore così tale che lui stava quasi cadendo dal letto e subito balzò in piedi andò da Padre Pio e gli disse padre ha bisogno di me e Padre Pio sì caro Padre Paolino dammi una mano perché sono tutto immerso nel sudore e per piacere aiutami a cambiarmi che non lo posso fare da sole. Allora Padre Paolino che ci racconta questo episodio finalmente lo poteva aiutare contento di questo aiuto che diede a Padre Pio nonostante la pesantezza del sonno non l'avesse avuto vinta sulla sua volontà di dare una mano al suo illustre confratello Padre Pio